Allora, eccoci partiti, siamo proprio a lungo la pista che questa sera ospiterà appunto la prima delle tre serate notturne, sarà tutto illuminato, sarà, ecco, rincontriamo i nostri ragazzi della scuola, rallentiamo un attimo. Siamo ormai verso, abbiamo trepassato la metà di questa pista servita dalla scuola Esti di Fiori. Eccoci, ora io mi trovo al bivio, qui c'è il bivio, vedete i ragazzi della scuola, eccoci qui. Allora, qui sulla destra si prosegue verso il campo scuola, dei giogli, invece, dritti, si torna alla sciovia Esti di Fiori, che potete vedere qui. Si cerca di conservare per quanto possibile la neve, che ancora c'è o rimane sulle piste. Un grande lavoro da parte, in questo caso, della società ISA, ma le società di gestione della miata cercano in tutti i modi di venire incontro a una situazione neve sicuramente non favorevole. E qui c'è l'ingresso della scuola, ecco, questo era un po' quello che vorrei farvi vedere. Marco Conti, Montamiata. Marco Conti, Montiata. Grazie a tutti.